Apro le mie finestre al mondo. È la denominazione della giornata organizzata dal terzo circolo didattico di Gela diretto da Angela Tuccio. Nei due plessi della scuola Santa Maria di Gesù e Benedettina gli ospiti sono stati accolti dalle mini guide condotti attraverso un percorso con la visita alle aule 2.0. Una scuola che guarda il digitale e si proietta al futuro. La Buona Scuola ci chiama quest'anno ad organizzare eventi per la settimana del piano digitale, eventi che sono già iniziati a partire dal 7 e si concluderanno proprio oggi, il 15 dicembre. Ogni scuola ha organizzato e organizza eventi particolari che possano metterla in contatto con il proprio territorio per far riconoscere le ricchezze e quanto di positivo si sia fatto negli ultimi anni nella nostra scuola e in tutte le scuole d'Italia. E' chiaro che è legato esclusivamente alla legge La Buona Scuola e promuove sicuramente e ingentiva la conoscenza di tutte le tecnologie possibili in ambito didattico. La nostra scuola, devo dire, con questo progetto dimostra di essere già in linea con i tempi, in quanto, indipendentemente dal progetto che apro le finestre al mondo, si è già portata avanti da circa 3-4 anni l'idea di una scuola nuova, di una scuola che abbandona i metodi tradizionali per lavorare con l'innovazione, da lavorare con tecnologie sempre più avanzate. Molte maestre dell'asile hanno voluto organizzare la Saga del Dolce, che la Saga del Dolce parla di molte mamme che hanno voluto partecipare, hanno voluto fare molte torte a fantasia e molti dolci. Comprando questi dolci e queste torte andranno in beneficenza. Tutte le maestre dell'infanzia hanno preparato una Sacra del Dolce, dove tutte le mamme si sono offerte di preparare alcuni dolci. Questa è l'aura informatica, dove noi interagiamo con il computer, scrivendo poesie, facendo riassunti, testi iscrittivi, eccetera, eccetera. Possiamo anche fare delle ricerche attraverso internet o Google Chrome. Allora, questa è la lavagna LEM, una lavagna interattiva multimediale.